Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della coppia che scoppia Vlog, l'ho detto bene, sì Allora, oggi farò con voi la tinta ai capelli Dunque, chi è che mi ha chiamato? Padre te Solo un secondo Eccomi, allora, come potete vedere Questa è la tinta, mettiti a fuoco, bravo Questa è la tinta, sì lo so, sembra o un cervello o un po' di cacca Vabbè, lascio a voi decidere che cosa E poi devo mettere l'ossigeno, ossigeno a 20, sì, ossigeno a 20, 125 ml Ok, ho messo tutto quanto Prendiamo il mio bellissimo pennellino e mescoliamo Prima di fare questa cosa dovreste mettere i guanti Che io molto stupidamente non ho messo Aspettate un attimo Allora, giornale da mettere sotto la tinta Se no sporcate tutto Mi raccomando, non fate come Alice che è sempre disorganizzata Poi Specchio, perché se no non vi vedete E guanti Ok, iniziamo Oh, devi smettere di uscire Allora, voglio provare a fare una cavolata Allora, girare con questo Forse ho fatto veramente una cavolata Perché ora come lo pulisco Mi dispiace tantissimo rovinare questi capelli bellissimi perché ieri avevo fatto le trecce E erano molti così ondulati Comunque, come potete vedere, questi capelli hanno due colori Qua sopra rosso intenso Infatti si vede Come le radici sono castani E qua sotto hanno un arancione Io devo cercare di togliere questo arancione Quindi Iniziamo Speriamo che non è il mio colore Questo non è il mio colore Perfetto Sexy Allora, a me non sembra rosso Mi sto preoccupando Mi sembro un castano Ma qua c'è scritto rosso, raga Ragazzi non potete capire che cosa è successo E non è uno scherzo Praticamente Io di solito compravo questa tinta Che era un biondo rosso fiamma 7.666 Oggi vado al supermercato Non trovo quella Ma trovo questa 7.6 Ho detto vabbè Sarà la stessa cosa Sono venuti marroni Un rosso marrone è venuto Non è venuto il rosso fuoco Che prendo Ma perché sono così deficiente Che non mi rendo conto Perché Cosa cambia in questa Cosa cambia È diverso È diverso Io non so Io non so perché sono così deficiente Non lo so Fa 20 minuti devo stare Questo coso Cioè Mirko almeno sarà contento stavolta Perché è venuto del colore Che piace a lui Parola Non ho parola Io non ho parola Chi di voi si tinge i capelli Se vi tinge i capelli Di che colore Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Se siete arrivati a questo punto del video Commentate con Alice Scema Perché Ma è possibile Che io non riesco neanche Guardate Guardate che colore è venuto Non è rosso Non ci posso credere Non ci posso credere Comunque ora aspetto 20 minuti E poi Vado a sciacquare Ci vediamo dopo Grazie nonna Sì Si è un fete lei Sisora piccola Quante cose Le stilate Eh Quando eri stilati Guarda Ragazzi lo vedete Che è diverso dal solito rosso Che ho io Ho sbagliato colore Come si fa? Come si fa? Vabbè ragazzi Non importa Pazienza Non so cosa dire Cioè io veramente non so cosa dire Questo è il colore di adesso E qui vi lascio il colore che faccio di solito Io non so come sia possibile questa cosa Il problema è stato questo Che nella prima tinta C'è scritto 7.666 Nella seconda tinta C'è scritto 7.6 Ho detto ma si è la stessa cosa A tinta fatta Ho ragionato un attimo Ho detto ma se qua mettono 3.6 E qua ne mettono solo uno La differenza ci sarà E infatti Ciao mamma Ho sbagliato tinta Certo Nel senso che Nella tinta di prima Avevo preso 7.666 Oggi vado a comprarlo Vedo 7.6 Dico ma si è la stessa cosa Ho già fatto Ho già fatto Ho detto ma si è la stessa cosa No Perché non è rossa intenso Quasi un marrone Lo vedi il fondo Ma sei bella lo stesso Ma lo so che ti ringrazio Ma sei bella lo stesso La mia patatina Io ti ringrazio Ma sei tutta fredda Eh già Io ti ringrazio Però il problema è che poi A tinta fatta ho detto Ma Se hanno messo un solo 6 qua E qua hanno messo 3 Vuol dire che è una differenza Non è periodico Eh No non è periodico qua È normale Biondo rosso fiamma Questo era un rosso Io lì ero un po' titubante Però ho detto ma si è la stessa cosa No Alice non è la stessa cosa È bello però Bellissimo Guardate che bello Guardate 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 Che siamo un marrone Guardato mio allora Ma il prossimo mese Lo faccio a rosso intenso Sei bellissima Guarda che capelli Sono un po' arrabbiata Vabbò comunque ragazzi L'esperimento di oggi È andato male Semplicemente per il fatto Che non mi ha aiutato nessuno E quando faccio le cose da sola Vanno sempre male Faccio sempre pasticci Quindi questo è il colore Che non è rosso intenso Un rosso marrone Comunque stasera la mia mamma Cucina la polenta Io sono contentissima Perché la polenta mi piace tantissimo In più Non guardate le mani Le mani se le guardate Sono leggermente rossicce Comunque la polenta mi piace tantissimo Però la fa con la salsiccia Invidiatemi Grazie Quindi l'esperimento di oggi È andato malissimo Devo dire E 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 Delle tinte rosso intenso E E Delle tinte rosso E Grazie a tutti.